Ed è, spero il mio Raifon mi dia la gio... Eccolo! L'almanacolo! Nel giorno dopo a me mi mette proprio in pace coi sensi Voglio sentire la musica con una tristezza ineffabile Eccolo! Ah, proprio una cosa che ti stringe il cuore Vediamo se c'è la signorina C'è la signorina degli anni Ottanta? Ah, c'è! Buonasera Buonasera, che bello! Bello! Domani, venerdì 6 dicembre, si festeggiano i Santi Laici Santa Giovanna da Tinder e San Genesio da Grindr Ma che santi so, scusi? Protettori dei single Entrambi canonizzati perché molto dediti al prossimo Sì, magari mi sbaglio, ma mi sembrano i nomi di quelle applicazioni che servono per fare... E zozzerie Eh! I Santi sono ricordati nella storia Perché perseguitati con assenza di wireless e giga insufficiente Ma vabbè! I nomi Grindr e Tinder derivano dall'aramaico Ah! Con significato di Metto una foto profilo ritoccata e con una cacciara dei filtri Se non col cavolo che rimorchio Ma lei è sicura di quello che dice? Il sole sorge alle 6.19 Ah! E tramonta alle 16.47 Questo è bello quando dice questo Umidità in aumento in serata Togliete i panni stesi e metteteli sul termosifone Notizie fondamentali, sono quelle che vogliamo sentire Domani manifestazione in tutta Italia Per il diritto unanime all'assaggio dell'introvabile biscotto con crema di nocciole Ah! Molto interessante Sabato, 7 dicembre, apre la stagione della Scala di Milano Bene Il grande evento è popolato da una fiumana di persone vestite a festa A volte di merda Prego Che fingono di amare l'opera La carta del giorno è... Qual è? Qual è? No, gli ascolti no, l'ho detto Non mi... questa cosa... lasciamola per L'elettrocardiogramma Ah! Peggio me sento, mi scusi Eh sì, va bene Sì, va bene Sì